Tommaso, cosa stai facendo? Papà Stai chiamando papà? Che cos'è quello? Dov'è che stai scrivendo? Il mouse, quello? E quello lì in fondo, che cos'è quello lì? Cos'è? Ta La tastiera, e quello lì che cos'è quello lì? Quello lì che cos'è? Il? Ta Computer, come si dice? Butter Dile va bene una mamma? Butter 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 Mama Butter Bravo Mamma Mamma Cos'è? Cos'è quella? Mmm E cos'è quella? Mamma 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 Cos'è? Cos'è quella? Grazie.